Danny Rowland e sua moglie Shirley si sono conosciuti dopo aver perso tanto in relazioni precedenti. Entrambi hanno vissuto in anni molto difficili dove trovare l'amore non era poi così semplice. Tempo fa la donna veniva considerata una casalinga che deve rimanere solo a casa e questo a Shirley non piaceva tantissimo. Per questo motivo non riusciva a stare con nessuno finché non ha conosciuto Danny. Fu quasi amore a prima vista, era un uomo libero e pieno di vitalità. Per lui le donne non erano inferiori, anzi ognuno poteva fare ciò che voleva. Se Shirley avesse voluto lavorare glielo avrebbe permesso senza problemi. Insomma dopo essere usciti per circa due anni si sono decisi a fidanzarsi per altri tre sposandosi alla fine in un bellissimo matrimonio. Dopodiché trovando il lavoro e la casa dei loro sogni hanno messo su famiglia crescendo dei figli meravigliosi. La loro vita fino ad allora non era stata affatto brutta nonostante alcuni problemi economici che li hanno costretti a resistere alcuni mesi addirittura senza cibo in qualche modo sono andati avanti grazie all'amore. Si sostenevano a vicenda anche quando litigavano e spesso i vicini erano gelosi di loro per la loro relazione. Con gli anni però la vecchiaia si è fatta sentire sempre di più. I figli li vedevano sempre più anziani e sempre più stanchi, impossibilitati dal vivere in quella enorme casa. Infatti nonostante fossero in due non riuscivano più a gestire niente né la casa né la loro vita. Prima o poi arriva per tutti il momento di mollare un po' la presa e quello era il momento di Shirley e Danny. I figli decisero quindi con il loro consenso di metterli in una casa di riposo. Sfortunatamente non potevano stare con loro perché avevano famiglie in altre città più lontane. Era tutto pronto per portarli in una pensione vicina al centro della città ma proprio una settimana prima si è ammalato gravemente Danny. I medici non riuscendo a capire cosa avesse hanno preferito tenerlo a casa sua per curarlo perché anche se avessero trovato un modo per fargli passare il dolore non sarebbe sopravvissuto un altro mese. Ma Shirley era stata portata nella pensione. Non riusciva a occuparsi anche di Danny e quindi i figli hanno preferito darle preoccupazioni in meno. Danny sfortunatamente un mese più tardi ebbe bisogno dell'ambulanza per andare in ospedale d'urgenza. La malattia che lo stava uccidendo continuava a fargli male e uno dei figli quel giorno andò con lui. Casualmente era in casa insieme all'infermiera. Dentro l'ambulanza l'uomo disse al figlio di voler rivedere un'ultima volta Shirley. Sapeva che stava arrivando il suo momento e per questo voleva almeno tenerle la mano prima della fine. Anche Shirley non stava benissimo e quel giorno era stata costretta a letto a riposo. I paramedici sentirono tutto intromettendosi nel discorso per aiutare l'anziano. Se volete possiamo fare una deviazione e andare alla pensione. Il figlio pensandoci un attimo accettò. In qualunque momento suo padre avrebbe potuto perdere la vita quindi perché non esaudire un'ultima richiesta? Grazie a ciò riuscì un'ultima volta a incontrare l'amore della sua vita che dopo 40 anni di matrimonio ancora lo amava con tutto il cuore. Nella pensione non potevano entrare perché non era orario di visite ma potevano portare fuori il letto di Shirley, con lei sopra. In questo modo sono riusciti a tenersi per mano almeno per una mezz'oretta e dirsi addio. Qualche giorno più tardi infatti Danny ha perso la vita ma si è spento serenamente senza pensieri. L'amore non conosce tempo e questa coppia lo ha dimostrato. Anche dopo tutti questi anni in vecchiaia sono riusciti ad amarsi come i primi tempi. Magari hanno avuto alti e bassi come tutti ma il potersi dire addio nonostante tutto è un qualcosa di unico e meraviglioso.